Formazione e lavoro, approvato il testo unico. Crisiliar di Grugliasco, delegazione ricevuta a Palazzo Lascaris, approvati anche due ordini del giorno, a firma all'Asia e a Cossato. Pronto soccorso ospedale Molinette, gara per i lavori a inizio 2024. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati. Formazione e lavoro, approvato il testo unico che semplifica e innova il settore. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, 25 sì, 12 astenuti e 6 non partecipanti al voto, il disegno di legge presentato dall'assessore Elena Chiorino per la definizione del nuovo sistema regionale per l'orientamento, la formazione professionale e il lavoro. Il testo unico di 65 articoli semplifica la normativa accorpando in un unico provvedimento organico tutte le disposizioni in materia di lavoro, orientamento e formazione, con l'abrogazione totale di 11 leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali. Fra gli obiettivi perseguiti, ha spiegato Chiorino, ci sono quelli di rendere più efficace la governance integrata delle politiche e degli interventi in materia. Con questa legge noi facciamo in modo di garantire opportunità, di fare in modo che le migliori competenze in termini di formazione vengano messe a disposizione dei nostri giovani, dei nostri lavoratori, ma anche delle nostre imprese che hanno bisogno di competenze per mantenere alta la loro competitività. Come ha sottolineato la maggioranza, il Piemonte è tra le prime regioni in Italia a regolamentare le politiche per lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione con un piano strategico integrato. Abbiamo chiuso un provvedimento importante che può semplificare e snellire e soprattutto va anche a aprire al mondo della formazione, anche al profit, che alle volte può essere più veloce a dare le risposte che le aziende, le industrie, la modifica del mondo del lavoro ci richiedono. Durante i vari interventi sugli articoli e anche nelle dichiarazioni di voto, le forze di opposizione, pur apprezzando lo sforzo fatto, sono state critiche sull'impianto della proposta, temendo un eccesso di liberismo e di privatizzazioni. La principale criticità è l'ingresso degli soggetti profit in un ambito in cui il tema della qualità è importantissimo. Se vogliamo dare un futuro ai giovani e una possibilità di reinserimento per le persone che hanno perso il lavoro. Ricevute a Palazzo Lascari su una delegazione della LIAR di Grugliasco, sono circa 300 i posti di lavoro a rischio. Un intervento delle istituzioni a sostegno dei lavoratori nel fronteggiare la grave crisi aziendale che sconta il calo della produzione di tutto il settore automotive in Piemonte. E' quanto ha chiesto una delegazione di rappresentanti sindacali dei lavoratori della LIAR, auditi durante una pausa dei lavori del Consiglio. L'azienda, con sede a Grugliasco, produce sedili per auto e versa in una situazione critica. Lo stabilimento ha un organico di 420 persone. L'esubero strutturale dichiarato nel 2022 era di 260 persone, una cifra che nel prossimo mese salirà oltre le 300 unità rispetto ai volumi di produzione attesa, hanno riferito i rappresentanti sindacali nel corso dell'audizione. Cercare di fare sinergia per uscire dall'impasto, dalla crisi che questo comparto sta soffrendo da tanti anni. Le istituzioni ci sono, sono coscienti della problematica. I consiglieri Diego Sarno e Daniele Valle, Partito Democratico, Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, sono intervenuti chiedendo precisazioni in merito alla distribuzione dei lavoratori sul territorio, alla presenza del gruppo LIAR, anche fuori dai confini regionali, alle interlocuzioni con Stellantis. Il Consiglio regionale ha ribadito che ci sarà la presenza della Regione Piemonte all'incontro presso il Ministero, già programmato per il 2022, che tenderà a capire cosa effettivamente sarà possibile fare. Dopo aver ricevuto la delegazione, nella seduta di martedì pomeriggio, l'Aula ha approvato all'unanimità due ordini del giorno di solidarietà con i lavoratori della LIAR Corporation di Grugliasco, a prima firma Silvana Cossato, Liberi Uguali Verdi e del Presidente Stefano Allasia. L'atto di indirizzo di Stefano Allasia impegna la Giunta ad attivarsi presso le sedi competenti affinché venga valutata ogni possibile iniziativa volta a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori LIAR e a chiedere all'azienda un nuovo piano industriale che consenta la continuità delle attività aziendali. L'ordine del giorno di Silvana Cossato impegna l'esecutivo regionale ad accompagnare i lavoratori all'incontro del 22 novembre a Roma con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, a velocizzare le pratiche burocratiche concernenti gli ammortizzatori sociali conservativi e a favorire la ricerca di soluzioni industriali attraverso un confronto con l'IR e la monocommittente Stellantis. Via Libera da parte dell'Aula la delibera per l'approvazione del programma triennale di ricerca 2023-2025 e del programma annuale di ricerca 2023 dell'Istituto di ricerca economico e sociali del Piemonte, Ires. L'assessore Matteo Marnati, illustrando il provvedimento, ha sottolineato le priorità in campo sanitario e nel supporto alla programmazione dei fondi europei. A inizio 2024 ci sarà la gara per i lavori del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Molinette. Così l'assessore Luigi Cardi ha risposto all'interrogazione di Daniele Valle, Partito Democratico, nell'ambito dei Question Time. Quali sono i tempi previsti per l'effettivo avvio dei lavori e il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino? Questo è il tema dell'interrogazione che il consigliere Daniele Valle, Partito Democratico, ha rivolto alla giunta regionale nell'ambito dei Question Time. La Regione Piemonte ha messo a disposizione i fondi necessari per le manutenzioni straordinarie delle Molinette. In questo pacchetto di risorse sono compresi anche i circa 10 milioni di euro per i lavori al pronto soccorso. A inizio 2024 sarà bandita la gara per l'esecuzione dei lavori, che presumibilmente potrebbero essere avviati entro giugno 2024. Ha puntualizzato l'assessore alla sanità Luigi Cardi. In questi giorni è in fase di individuazione il raggruppamento temporaneo di professionisti, che cureranno la progettazione degli interventi di adeguamento del DEA. Carcere minorile contemporaneo. Si è tenuto al circolo delle Tori di Torino il primo di una serie di incontri per immaginarne il futuro. Riflettere sul passato e sul presente del carcere minorile e immaginarne il futuro. Questo l'obiettivo della serie di incontri organizzati dall'Assemblea legislativa piemontese attraverso gli uffici dei garanti regionali dei detenuti e per l'infanzia e l'adolescenza, il primo dei quali, dal titolo Parliamone, si è svolto al circolo dei lettori di Torino. Ad aprire i lavori il componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Gianluca Gavazza. Carcere minorile Parliamone. Questo è importante, bisogna parlarne. Ecco perché sono qui per portare il saluto dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. L'esecuzione penale minorile in Italia è un modello, ma è un modello perché ha saputo fare a meno del carcere per puntare sulle comunità, sul territorio, sul tessuto, sugli inserimenti sociali e lavorativi. Ne discutiamo anche perché a Torino stanno per arrivare 25 milioni di euro per un intervento strutturale sul compound del Ferrantaporti e come garanti vorremmo sapere come saranno usati. La garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Elenia Serra, ha puntato l'attenzione sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati. Il carcere deve essere un'occasione di rieducazione del minore per potergli offrire una vera seconda chance. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!